Si è fidata e lo ha seguito, è vero, era notte, ma avrà pensato siamo in centro, in fondo vuole aiutarmi, e invece no, le intenzioni erano ben altre. Siamo tra la stazione Termini e Castro Pretorio, appunto, il centro della capitale. Una ragazza di 20 anni, finlandese, arrivata in Italia per lavorare come babysitter, esce da un locale di via Palestro, dopo aver passato la serata insieme ad un'amica, alla ricerca di un taxi per tornare a casa. E' qui che l'adesca un 22enne bengalese, in Italia dal 2014, con un permesso umanitario, che da qualche giorno lavora come lavapiatti in un ristorante, è tardi, le offre di darle un passaggio in auto. In fondo avevano scambiato qualche parola all'interno del locale poco prima, perché pensare male, e invece lui non ha nemmeno l'auto e aveva già altro in mente. Durante il tragitto verso la macchina, che non esiste, inizia a baciarla e ad abbracciarla, lei finalmente capisce, ma è troppo tardi. Il ragazzo raccoglie un sanpietrino e la minaccia, ti uccido se urli o se provi a scappare. La trascina dietro un autobus parcheggiato vicino ad un distributore, in una zona un po' isolata, la schiaffeggia e poi la violenta. La ragazza urla, una coppia di anziani la sente, si affaccia alle finestre, ma il ragazzo non desiste. 20 minuti terribili per la giovane finlandese che viene abbandonata lì, dopo che il violentatore ha anche la lucidità di aprire la borsa e prendere i 40 euro che aveva. Lui però non l'ha fatta franca perché la squadra mobile di Roma lo ha arrestato nel giro di poche ore. Tonia Cartolano, Sky TG24